Salve a tutti quanti, io sono Trenas e benvenuti a quello che è la preview, l'analisi degli elementi che vanno a cambiare tutto Teamfight Tactics Partiamo con una premessa chiara e tonda che se non si capisce adesso, non so quando si dovrebbe capire Conoscete tutti i campioni, le classi e le origini di Teamfight Tactics? Bene, cancellateli, non esistono più Fra due settimane, il 6 di novembre, tutte queste categorie verranno cambiate Tutti i campioni verranno sostituiti Tutto quanto Non c'è più niente di quello che conoscevate prima Dovete rimparare da zero e come si, così tutti quanti Non potete affidarvi a quelle che erano le conoscenze precedenti Tranne a come funzionano i sistemi ovviamente Gli oggetti sono sempre quelli, i round sono sempre quelli Ma cambiano i personaggi Ed era necessario perché attualmente la fase di beta di TFT era proprio Era diventata pesante, frustrante e con due strategie valide Andare a dare una boccata d'aria andando a sostituire tutto l'equilibrio di gioco Penso che sia necessario per lo stato salubre di questo gioco Deve essere tutto riportato a un stato di big reset Big fucking nope della season precedente Cominciamo fresco e nuovo Quindi sostituzione totale Non è che viene fatta qualche... no Sostituzione totale di tutte le origini, tutte le classi e tutti i campioni Non vedete più quei campioni Questo arriva nella patch 9.22 Che è quella che, come sottolineavo, arriva il 6 di novembre Ancora una volta, 6 novembre arriva tutto questo E da quel giorno in poi potete effettivamente andare a parlarne Vi ricordo, le ranked di TFT avranno dei premi a sé stanti Non sono ancora stati annunciati E la fine della stagione 2019 è proprio questo weekend Nel senso che... non questo weekend Ma questo fine patch Questo week Questo momento... non so perché l'ho chiamato weekend Sono un coglione, ma non importa Il punto è questo Nel momento in cui arriva la patch 9.22 Finisce la season 0 di Teamfight Tactics Finita Non potete più salire di elo Non potete più rimediare al vostro diamond droppato a bronzo O platino, o silver, o gold, o quello dove siete finiti Stesso discorso al contrario Questa è la fine Ultima patch, ultime due settimane per rancare Usatele adesso o non usatele mai più Andiamo a parlare però di quello che sono andati a modificare Che sono stato molto catastrofista fino ad ora Elementi Gli elementi sono ciò che rappresenta questa intera stagione 2020 Cioè quella della decima stagione di League of Legends E quindi hanno deciso di metterlo anche su Teamfight Tactics Gli elementi Ogni elemento ha un suo bonus Sulla landa gli evocatori li conosciamo Sono aria, acqua, terra e fuoco Su Teamfight Tactics hanno detto Dobbiamo davvero limitarci a 4 elementi e basta Nah, quella roba è da sfigati Cominciamo con tutti i bonus E letteralmente ce ne sono così tanti Bonus Cristallos Di cui ne fanno parte Scarner, Taric e Ash Che è modificata da quella precedente Mettere in campo molteplici campioni di cristallo Gli dà un limite massimo Della quantità di danni che possono prendere Da un singolo attacco o da un'abilità Che cosa significa? Se tu ad esempio Andiamo a prendere proprio la chart Se tu ad esempio hai 4 campioni Che sono cristallo Tu hai 60 danno massimo Che puoi andare a subire Se tu ne hai 2 100 danni sono il massimo Che puoi subire su quei campioni Il succo di questa passiva è questo Permettere a certi campioni Di continuare a fare il proprio lavoro Nonostante ci siano delle cose Che possono andare a burstarli O ucciderli Se tu vuoi che il tuo tiratore Che è Ash Continui a fare danno Puoi prendere Taric o Scarner Oppure Lux Ma dopo ne parliamo a modo E avere questa garanzia Al 100% Che quel campione sia al sicuro Che sia protetto Dal danno burst magari di un mago Puoi averne paura Considerate le possibilità Che entrano in campo In questa patch Questa passiva è fatta apposta Per proteggere I campioni Che devono fare un lavoro specifico E proteggono soltanto I campioni cristallo Non gli altri Quindi Potete immaginarvi Quanto è limitato Ma quanto allo stesso tempo È forte Questa passiva Deserto Molto simile a quello Che era il buff Del Void precedente Mettere in campo Molteplici campioni Nel deserto Riduce l'armatura Del team nemico La riduzione aumenta Dipendentemente Dal numero di campioni Nel deserto Che vengono messi in campo E Molto semplicemente Viene ridotto Del 50% Se ci sono 2 campioni Nel deserto E del 90% Se ci sono 4 campioni Nel deserto Ne fanno parte Renekton Sivir Azir E Kha'Zix Quindi L'idea di fondo È andare a negare Le team comp Che hanno tanta armatura Come i Warden In generale Affrontare i tank Che fanno grossa frontline E permettono Una backline Di fare danno Il deserto Ti dà una scelta Una chance Di poter gestire Chi ha tanta armatura In modo efficace Ed impatto Andiamo avanti Con l'elettrico Dell'elettrico Fanno parte Horn Volibear E Zed Mettere in campo Molteplici campioni elettrici Causa Il danno Causes them to damage A adjacent enemies Che significa Praticamente Fanno danni Ai nemici adiacenti Ogni volta Che subiscono Un critico Oppure Che fanno Un critico Loro stessi Zed Essendo un assassino Horn e Volibear Essendo Comunque Campioni Che possono Crittare Per un motivo Perché uno Può confondere Magari L'idea Dell'elettrico E dire Ok Questo è per amplificare I critici Ma anche per gestire I danni critici Perché se tu ad esempio Metti in campo Horn Volibear E Lux Elettrica Che cosa succede? Tu vai a mitigare Ogni tentativo Di danno critico Su quella che è La tua La tua Backline Cioè Lux Lux è il tuo carry Principale Late game Perfetto Se subisce danni critici Di colpo Prendono un botto Di danni Hai la tua Frontline Come Horn E Volibear Perfetto Ti possono tankare Tranquillamente Senza troppi problemi Gli assassini Proprio perché Subiscono Gli assassini Stessi Danni critici L'idea di fondo È Poter gestire In qualche modo I critici Oppure andare A amplificare L'identità Di Zed Fare tanti Danni critici Quando ti lanci In la backline Quindi utilizzi Horn O Volibear Oppure Lux Ancora una volta E scegli tu Che cosa vuoi Effettivamente Come effetti In campo Per o gestire O aiutare I tuoi assassini E considerato che Horn va a amplificare La proprietà di critico Tendenzialmente Lo va a utilizzare Quando stai Buildando assassini In sé per sé Sì gli assassini Esistono ancora Sono una delle poche Categorie che è rimasta Leggermente modificata Ma rimasta Glaciali Warwick Volibear Brom Ezreal E Olaf Mettere in campo Molteplici campioni Glaciali Gli dà la possibilità Di stunnare i propri Bersagli Che aumenta Con il numero Di glaciali Questo è rimasto Uguale Identico a prima Alla fine L'elemento del ghiaccio È qualcosa che Comunque è rimasto Identico Le chance Sono leggermente Aumentate Su 6 campioni Glaciali 60% Di probabilità Di stunnare Ma è per un secondo E mezzo Quindi Niente di esagerato Questo lo conoscete Già Molto Molto Semplicemente Alcune sono rimaste Perché comunque Rimangono degli elementi Inferno Questo è molto carino Con Zyra Diana Varus Chiana E questo lo andremo A spiegare dopo Perché Chiana Apparirà più volte Kindred Annie E Brand Mettere molteplici Campioni Inferno In campo Causa Le abilità Di questi Campioni Di dare fuoco Al terreno Sotto i propri Bersagli Danneggiando I nemici Che stanno All'interno Dell'area Infuocata Il danno Aumenta Col numero Di campioni Infernali Che cosa Significa Andiamo un attimo A vederlo Qua Fai l'80 Il 165 O il 275 Per cento Del danno E la tua Abilità Perché questa cosa Perché l'idea di fondo È che una volta Che utilizzano Il loro spell Tu continui a creare Queste aree Infuocate Sempre più grosse Sempre più grosse Sempre più grosse In modo da permetterti Di fare danno Continuato nel tempo Quindi L'idea di fondo Di questa comp Di queste Di questo bonus Di questo buff È quello di poter Continuare a danneggiare Nonostante magari Il tuo campione Sia già morto Perché sono comunque Molti campioni fragili Non c'è nessuna front line Tranne Annie Che evoca Tibbers E anche in quel caso Non è una vera e propria front line Sono tutti campioni Che fanno oltretutto Danno molto sostenuto Diana è un assassino Certo E così anche Chiana Ma comunque Possono continuare A fare danno nel tempo Grazie alle loro Abilità stesse È bello L'effetto Perché l'inferno Perché l'idea di fondo Vain 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 è effettivamente un campione La morte di un tuo alleato Quindi sempre più velocità di attacco Perfetto Montagna Ne valga la pena Della propria E' più valido Singed per forza di cose Non lo so Singed è un costo 5 Quindi già quello rende difficile il tutto Ma tutti gli altri Devono colpire più bersagli Perché ne valga la pena E devi colpire la backline Perché ne valga la pena Per questo l'unico che Secondo me è worth In questa team comp È Singed Perché lui corre Continua ad andare in giro Gli altri sono immobili Colpiscono dalla gittata E Twitch ha la sua suprema Per fare danno ad aria Ma deve comunque caricare il mana Eh Non lo so È un pochino strano Tutto qua Shadow Ombra Malzar Kindred Veigar Sion Mastery Mettere molteplici campioni dell'ombra Gli permette di fare danno aumentato Nei primi secondi del combattimento E Anche per qualche secondo in più Ogni volta che ottengono un'uccisione Un'uccisione Un'assist ovviamente Mettere più campioni dell'ombra Gli permette Gli permette a tutti quanti Di fare danno aumentato Quando Qualsivoglia campione dell'ombra Fa un takedown Per la precisione Giusto per essere precisi Nel momento In cui ci sono due campioni dell'ombra Hai un aumento del 50% del danno E soltanto se tu hai fatto la kill O l'assist Ottieni questo bonus Se sono quattro campioni dell'ombra Il danno viene moltiplicato del 100% Quindi due volte Semplicemente fai il doppio del danno Ma ogni campione dell'ombra Ottiene il bonus È interessante L'idea di fondo Non so se Cioè è molto situazionale secondo me Penso che ci vorrà del tempo Per vedere e percepire Quanto sia forte tutto ciò Perché i campioni non sono male Ma non sono nemmeno eccezionali Mettiamola così Vento Yasuo Kiana E Janna Mettere in campo Dei campioni nel vento Gli permette di ottenere Della dodge chance Al team Permette praticamente di ottenere L'effetto degli ordol Ma su tutti quanti I campioni presenti Effettivamente In campo Sono 25 40 o 60% Di dodge chance Dipendentemente dal numero Di campioni Ovviamente c'è l'effetto A4 Nonostante siano solo 3 campioni Perché ricordiamo sempre Lux Che può permettere Di sbloccare Il tier successivo Woodland Woodland Maokai Ivern Niko E Leblanc Mettere in molteplici Campioni Woodland Cioè Della foresta Causa la possibilità Di evocar Di creare un clone Casualmente Inclusi gli oggetti All'inizio del combattimento Che cosa significa? In pratica Tu hai la possibilità La chance Di avere Tra Maokai Ivern Niko Leblanc Di avere Una copia Creata Di questi Specifici Campioni E a me Piacciono già Un casino Questi Perché mi ricordano Molto gli elementalisti E quindi penso Che probabilmente Li spammerò un casino Perché mi piace Moltissimo L'idea di fondo Vedremo Vedremo Se sarà Efficace Secondo me Sarà tanto figo Tanto tanto figo L'effetto è unico Non c'è Non c'è Una versione Potenziata Da lux O cose del genere Andiamo alle classi Perché ovviamente Sono cambiate le origini Gli elementi Adesso li chiameremo Cambiano Anche un pochino Le classi Alcune classi Sono uniche Alcune classi Sono invece Condivise tra più campioni Alchimisti Soltanto Singed È un alchimista Quindi campione leggendario Costo 5 Effetto unico Gli alchimisti Possono muoversi Tra le unità E non si fermano mai Semplicemente Che cosa vuol dire Possono continuare a correre Liberi di fare Ciò che cazzo vogliono Cioè Singed può fare Il cazzo che vuole Può andare a correre Avanti Indietro Destra Sinistra Non si ferma mai 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 È interessante Perché comunque Lui applica il suo Veleno ad aria L'idea di fondo Dovrebbe appoggiarsi a quello Assassini Sì Gli assassini Sono ancora Presenti nel gioco Evviva Diana Leblanc Kiana Nocturne Kha'Zix E Zed Fanno parte di questa categoria Mettere molteplici assassini In campo Gli permette di ottenere La critical strike chance E danno critico aumentato Che aumenta Con il numero di assassini Ovviamente Il sistema è uguale A quello precedente Anche se non c'è più Il bonus A 9 assassini E vorrei ben vedere Grazie Gentilissimi Per fortuna Per fortuna Arriviamo all'avatar Che questo è L'effetto che porta Lux In campo L'elemento dell'avatar Viene contato due volte Per i tratti bonus Che cosa significa? Come funziona Lux? Molto semplicemente Nel momento in cui Ti appare Lux Nel mazzo Quando arrivi ad avere Le leggendarie Lux è un campione Che costa 7 gold Non 5 come gli altri Legendarie Costa 7 gold All'inizio Lux Non ha un'identità Non ha un elemento fisso Ma Ma Nel momento in cui Tu acquisti una Lux Lei e tutte quelle Presenti nel tuo mazzo Saranno tutte quante Di quello specifico elemento Quindi non solo Rende un pochino più semplice La possibilità di trovare Lux E farla a 3 stelle Allo stesso tempo Tutti gli altri Non possono ottenere Effettivamente Quella Lux Questo è un effetto interessante Perché non solo Vai a contare Due volte Il suo tratto bonus Permettendoti di facilitare Molto La conquista Di certi buff Che magari Hai bisogno Di tanti campioni E non hai abbastanza Slot in campo Quindi utilizzi Un campione Ma ti da due volte Il bonus Non solo Lux È veramente forte Proprio di base Hands fucking down Lux è veramente forte Berserker Renekton Jax Volibert Dottor Mundo Sione Olaf Mettere molteplici berserker Permette loro Di fare Hanno la possibilità Di fare del danno In un cono Dietro al bersaglio Questa chance Viene aumentata Con il numero maggiore Di berserker In pratica Hai un'idra titanica Molto basic Hai un'idra titanica Hai il 40% Di chance Di colpire tutte le unità In un cono Dietro A 3 Se invece sono 6 Hai l'80% Di chance Semplice È letteralmente Hai l'idra titanica Su una categoria Di campioni Tutto qua Blademaster Yasuo Sivir Aatrox E Mastery Mettere molteplici Blademaster Ti dà la possibilità Di colpire Delle volte bonus Aumentando Col numero di Blademaster Anche questa categoria Di master invariata Sono cambiati i campioni Aatrox è diventato di luce Per fare un esempio Poi faremo un altro video Dedicato ai campioni Ragazzi Non preoccupatevi Evocatori Summoner Questi evocano Delle unità In campo Mettere molteplici Summoner Aumenta la quantità Di vita E la durata Degli alleati Che vengono creati Che aumenta Col numero di evocatori Che cosa significa Ogni singolo Campione Di questa categoria Va a evocare Delle unità Bonus Sì anche Zed Che fa veramente Strano Ma crea Cloni Poi ne parleremo Nel video Di campioni Questa cosa Come funziona Come funziona Molto semplicemente Hai un aumento Del 40% Di vita Delle unità Che hai evocato E del 100% Di vita E di durata Se ne hai 6 Di evocatori È un effetto Interessante Allo stesso tempo Mi sembra Molto Come dire È molto limitato Nel senso che Va ad aiutare Tantissimo Questa categoria Ma non ottieni Niente Al di fuori Di questa categoria Cioè è molto Chiusa dentro Se stessa Questa categoria Non aiuta Gli altri Cioè non hai Un effetto Che vai a sentire Lampante Cioè per fare un esempio I Blame Masterson Hanno un buff Egoista I Berserker Hanno un buff Egoista Lux ha un buff Altruista Gli assassini Hanno un buff Altruista Perché funzionano Su tutti gli assassini Dipendentemente Puoi definire Un buff egoista O altruista Questo è uno Di quei buff Egoisti Che funziona Soltanto Se hai In modo Se dai tempo Agli evocatori Di creare queste unità Perché se muoiono Troppo in fretta Il bonus Non serve a niente È qualcosa di Secondo me Molto situazionale Ma nel momento In cui riesce A ingranare bene La combo È veramente forte Non è così Situazionale A dire Ah non lo vedremo mai È qualcosa che vedremo Molto spesso Secondo me Ma allo stesso tempo L'ottimizzazione Di questa comp Non è così semplice Come molti pensano Secondo me Ma io poi Spesso volentieri Ho torto Quindi magari Riaffronteremo Questo discorso In futuro Druidi Ivern Maokai E Niko Mettere in campo Due druidi Da a tutti i druidi Eltregen Ti rigeneri 40 HP ogni secondo Molto semplice Niente di Troppo complesso I druidi Si curano Da soli Ok Weird flex Maghi Maghi Vladimir Thalia Sindra Leblanc Veigar E Brand Mettere in campo Molteplici maghi Da loro La possibilità Che è una possibilità Quando sono tre campioni Ma una garanzia Quando sono sei campioni Da la possibilità Di castare Due volte L'abilità Quando viene castata Cosa succede? Sindra che lancia Due sfere Leblanc Che lancia Due catene Veigar Che lancia Due volte La sua Q Brand Che lancia Due volte La sua Suprema Thalia Che fa il Seismic Shove Due volte Vladimir Che fa la Trasfusione Due volte L'effetto Su uno Di questi Singoli Campioni È veramente Forte Non è qualcosa Da sottovalutare E la cosa Figa è che Il mage È un effetto Che puoi mettere Su qualsivoglia Campione Grazie a un oggetto Da spatola E di quello Ne parleremo Poi Non sottovalutatelo Questa categoria È veramente Forte Veramente Forte Soprattutto Se riesce A ottenere Il bonus Su specifici Campioni Suo E ottiene Questo Not cool Bro Not cool Mistico Soraka Gianna Mastery E Nami Fanno parte Dei mistici Mettere molteplici Campioni Mistici Da tutti Gli alleati Resistenza Magica Che aumenta Con il numero Dei mistici Grazie Oh mio Dio Finalmente Una delle cose Che odiavo Dell'effetto Dei draghi È che era un buff Estremamente Egoista Finalmente Hai un modo Per dare Resistenza Magica A tutti Quindi Quando vedi Che ci sono Team cop Che fanno Solo danno Magico Nel resto Delle board Dici Ok Vado di mistici Prendo un paio Di mistici Almeno ho Resistenza Magica E sopravvivo Un po' Più a lungo Meno male Alleluia Oh Queste sono risposte Queste sono modi Per gestire C'è un counter Per ogni cosa C'è un modo Per gestire Ogni cosa Non è che Quelle due Unità La gestiscono No Tutti possono Gestirla Insieme Oh Che bello Sono contento Di questo buff Mi piace un casino Mi piace molto meno Questo Questo è proprio What the fuck Chi l'ha pensato Predatori Warwick Cogmo Scarner E Rek'Sai Mettere in campo Molteplici predatori Causa i loro attacchi Le loro abilità Di uccidere immediatamente I nemici A bassa salute Come vi è venuto in mente Ne devi mettere tre in campo E quindi non è un buff Da poco Ma i predatori Uccidono istantaneamente I nemici Sotto il 20% Di vita E se io avessi una front line Che si basa sul Essere basso in salute Con la warmog Un po' frustrante Come cosa Ma non sembra Così sbilanciata E di nuovo Non è forte Ma è frustrante A gestirla Non è divertente Vedremo se andrà bene Secondo me non durerà a lungo O comunque verrà reworkato Come effetto I ranger sono anche tornati Vayne, Varus, Ezreal, Kindred, Ash e Twitch Mettere in campo Molteplici ranger Gli dà periodicamente La possibilità Di ottenere un bonus Cioè il doppio De velocità d'attacco Che aumenta Con il numero di ranger Questa probabilità Di ottenere Velocità d'attacco bonus È 30% A 2 65% 65% A 4 E 100% A 6 ranger Quindi tu puoi fare una team comp Basata su 6 ranger E avere la garanzia Che tu hai sempre Il doppio della velocità d'attacco Non è roba da poco Per niente Le comp con i ranger Sono veramente forti Ma veramente forti Veramente forti È insane Sul PBE Non hanno un cazzo di senso Warden Ultima categoria Sono Orn Nasus Thresh Brom Nautius Malphite E Tar Mamma mia quanti sono Mettere in campo Molteplici warden Gli da armatura Bonus Che aumenta Con il numero di warden Presenti in campo Andiamo a vedere i bonus Perché sono veramente grossi A 2 warden Hanno il doppio dell'armatura A 4 warden Hai il 250% In più di armatura Quindi sono 3 volte e mezzo L'armatura A 6 warden Hai 5 volte L'armatura Ragazzi Ragazzi Io mi sto immaginando Gente con Oggetti D'armatura pura Che si lanciano in mezzo E non muoiono mai Per mano dei rangers Devi avere per forza Di cose danni magici Non sono sicuro Sia così sano Però Ok È veramente insane Allora Il video È già 28 minuti E quindi ragazzi Chiuderò qua Per quanto riguarda La prima porzione Di teamfight tactics Non è vero Fanculo Faremo il video Faremo un video lunghissimo 40 minuti Let's go boys Tutti i campioni insieme Ok Diana Inferno Assassino E la sua abilità È il suo scudo La sua W Direttamente a League of Legends Diana si scuda Per un paio di secondi E crea 3 sfere Attorno a se stessa Le sfere esplodono Quando entrano a contatto Con un nemico Danneggiandoli Molto basic Costo 1 Quindi Niente di troppo grave Iber Woodland Druid Semplicemente Dà uno scudo Sull'alleato più basso In salute Basic Semplice Easy peasy Cogmo Lancia una Proiettile acido Che danneggia Un campione nemico Casuale È la sua suprema Molto Basilare Niente di Troppo complesso Ma ok Questo è carino In pratica Quando viene colpito Da una spell nemica Il suo prossimo Autoattacco Lo cura Non è male Come frontline A questo modo Ma rimane Molto limitato Perché comunque È un costo 1 E una frontline Costo 1 Non ti dura a lungo Nasus Luce E Warden Nasus Semplicemente Va in suprema Diventa più grosso Tiene vita bonus E danneggia i nemici Vicini a lui Per ogni secondo Per tutta la durata Di questa abilità Orn Elettrico E Warden È la cosa più strana Nel mondo Tipo Va ad aiutare Gli assassini È un warden È un warden Quindi gestisce gli assassini È elettrico E quindi aiuta E gestisce gli assassini È eccentrico Come campione Orn lancia Una fiammata Lancia semplicemente Un cono Di fulmini Di fronte a lui Danneggiando i nemici E aumentando la chance Di essere colpiti Da danno critico Per i prossimi secondi In pratica Ottieni La possibilità Di fare Di fare un critico Su certi campioni Basta Questo è quanto È Veramente strano Capisco l'idea Non mi piace Non mi aspettavo Questo da Orn Per niente Renekton Deserto E Berserker Renekton Utilizza la sua Q Fa questo danno Ad aria Tutto attorno a se stesso E si cura Per ogni nemico colpito Molto Forte Come front line Nel caso Abbia la possibilità Di fare effettivamente Il suo lavoro Talia Mago Della montagna Talia semplicemente Utilizza il suo seismic Shove E spinge Un'unità casuale Li lancia Verso di sé Se sono campioni Gittato O li lancia Lontani Se invece sono campioni Corpo a corpo L'idea di fondo Dovrebbe essere Allontano la front line Avvicino la back line Avversaria In modo che sia più accessibile Per il mio team Carino Come effetto Niente di esagerato Veina è letteralmente Uguale a prima Fa danno bonus Puro Su ogni 3 autoattacchi Fine Niente di più Niente di meno Vladimir invece Utilizza la sua trasfusione Quindi danneggia un nemico Sicura Per il danno Che ha fatto sul nemico Non male Niente di esageratamente Opprimente Dipendentemente Sempre da quanta PA ovviamente Warwick Predatore Glaciale Salta sul nemico Basso in salute Lo stun E lo danneggia E applica gli effetti Unit E' carino questo Perché Essendo un predatore Può andare a eliminare Un bersaglio Lanciandosi addosso Adesso è ancora più utile Questo effetto Mi piace veramente Un sacco Zaira Inferno E summoner Zaira spona Due piante Intergettabili Su caselle casuali Al bordo dell'arena Che attaccano i nemici Più vicini Tutto qua E poi aumentano A 3 e 4 Al livello 2 Livello 3 Di Zaira Cioè 2 stelle O 3 stelle E' molto carino Come effetto Perché comunque Queste piante Che continuano a sparare Proiettili E continuano a fare male E' carino Non è niente di eccezionale Secondo me Tier 2 Brom Glaciale Warden Stesso uguale a prima Non è cambiato niente Blocca i proiettili In arrivo E riduce il danno In entrata Che subisce Jax Luce berserker Jax ottiene Nel 100% Di dodge chance La possibilità Di schivare Per i prossimi secondi E poi stun Tutti i nemici Adiacenti a lui E li danneggia La sua è Il counter strike Leblank Assassino Mago Woodland Ethereal chain Lancia una catena Stun l'avversario E lo danneggia Dopo un breve delay Anche qua Niente di troppo complesso Molto carino Per un assassino Poter stunnare Questo lo ammetto E questo mi piace tanto Veramente Veramente tanto Marzar Shadow e summoner Marzar crea un portale Che spawne i minion Più alto il suo livello Più alto il numero Di minion Che va a spawnare Basilare Nico Woodland druid Nico lancia la sua Q E continua a fare un danno Sempre più volte Sempre più volte E sempre più grosso L'area che danneggia E' carino Quando hai I team comp contro Che fanno Sono tutte unite insieme Rek'Sai Acciaio Predatore Fa danno sul bersaglio Facendo danno puro Niente di troppo complicato Skarner Cristallo Predatore Skarner si scuda Per un paio di secondi Ottenendo attack speed bonus Finché lo scudo Lo protegge Carino Ma niente di esageratamente forte Sindra Mago oceanico E Crea una sfera Nella location Nel Nel punto indicato Dove c'è il bersaglio E fa del danno La sua Q Molto basilarmente Trash Oceano E Warden Lancia la lanterna Sull'alleato più basso di salute Lo scuda Lui E tutti gli alleati vicini E' veramente forte E' veramente forte Questa cosa Non sottolutatela E' veramente forte questa Non so come pensino Che sia bilanciato Ma va bene così Varus Inferno Ranger Lancia la sua La sua freccia Facendo danno Uguale a prima Volibear Elettrico E glaciale Berserker Volibear Morde il suo bersaglio Facendo danno Il morso Uccide istantaneamente I nemici Sotto un certo quantità di vita Rigenerando tutto Il mana di Volibear Quindi può mordere Due volte di fila Se 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 Effettivamente Uccide il bersaglio Quando l'attiva la sua abilità E' una buona spell Non è per niente male Yasuo Totalmente indebolito Totalmente indebolito Non è più il costo 5 Ripi Yasuo Ma Yasuo con la sua abilità Adesso appare accanto al nemico Con il numero più alto di oggetti Attaccandolo molteplici volte In rapida successione E Knock up Andolo per tutta la durata E' la sua suprema Senza aver bisogno del knock up Molto semplicemente Frustrante Perché vuol dire che può andare più volte A bloccare un campione Che ha tanti oggetti addosso Ed è un po' strano Però allo stesso tempo Ti dà uno strumento Per gestire i campioni Con tanti oggetti Però può morire questo strumento Non è come i cazzo di Extech Costo 3 Aatrox Luce Blade Master Uguale a prima Ultima Ultima porzione Della Q E fa quel danno Ad area di fronte a sé Basilare Azzir Va a evocare Dei soldati di sabbia Intargettabili Che fanno autoattacchi Nemici Autoattacchi su nemici casuali Ogni volta che Azzir Attacca In pratica ti permette Di avere un danno Più alto In un'entrata Niente di più Niente di meno Mundo Veleno e Berserker Semplicemente Mundo Crea Genera questa nube tossica Attorno a sé stesso Che danneggia i nemici vicini E si cura Per il danno fatto Per molte peci secondi È un pochino strano Ma ok I guess Ezreal è un glaciale ranger Che va a sparare la sua Q Continua a lanciare le sue Q A raffiga Che danneggia il primo nemico colpito E applica gli effetti on it Quindi il red buff Il morello Cose del genere Vengono applicati Kindred Shadow inferno ranger Semplicemente Salta via Kindred E il lupo Va a mordere Effettivamente L'avversario Dalla quale sta saltando via Un po' strano Ma anche molto figo Come effetto Nautilus Warden oceanico Lancia la sua suprema Sul bersaglio Più lontano in assoluto Che fa knock up E li stunna Per tanto tempo Non è per niente male Come abilità questa Nocturne Assassino d'acciaio Ogni 3-8 attacchi Nocturne fa un attacco Ad area Che danneggia tutti i nemici E lo cura Per una porzione Del danno fatto Non è male Ma non è nemmeno Niente eccezionale Chiana ha 4 categorie Che sono Inferno Oceano Montagna O vento Non si è capito la regola Se tipo cambia Durante la partita Se viene deciso All'inizio della partita È un po' strano Ma cosa succede Assassino Salta nella backlane Dascia Al lato del suo bersaglio E li lancia Un colpo di vento Che li danneggia E li stunna Quando li colpisce Non è male È la sua Q Con lo stun integrato Garantito Di nuovo Assassini Con dei controlli pesanti Porco 2 Sion Shadow Berserker Lancia la sua Q E quindi knock up E danneggia gli avversari Molto basilare Sivir Deserto Blademaster Gli attacchi di Sivir Rimbalzano Molto semplice Molto carino Perché fai una tonnellata Di danno Essendo Blademaster Che vedi proprio Sivir Che ha gli attacchi Gli spasmi Che continua ad autoattaccare È bellissimo Da guardare Non sembra Non sembra troppo opprimente Soraka Luce mistico Soraka in pratica Crea un'area Dove non puoi ottenere mana Al suo interno Vieni danneggiato Quando sei al suo interno E non puoi ottenere mana Molto forte contro certe team comp Ma è casuale il nemico Che va a colpire Quindi È tipo È ok Come effetto I guess Veigar Malgo Oscuro Lancia la sua Q Lancia la sua superina Perdonatemi Fa danno Se uccide istantaneamente Se il nemico È di un livello sotto Basic 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 Costo 4 Annie Inferno Evocatore Annie evoca Tibbers Su una casella vicina Tibbers Attacca i nemici Vicini Quando è attivo Basilare Ash Cristallo Ranger Praticamente ottiene la sua Q E diventa una mitragliatrice Ash E fa una tonnellata di danno Non ha senso È disgustosa Ash In questa modalità Brand Stesso Uguale a prima Identico Lancia una falla di fuoco E comincia a palleggiare Tra i vari nemici Inferno Mago Gianna Mistico del vento Gianna Utilizza il suo monsone Lancia Knock up indietro tutti i nemici Cura tutti gli alleati E stunna gli avversari Per tipo un secondo E basta Kha'Zix Assassino del deserto Kha'Zix diventa Invisibile E va È intargettabile E va a danneggiare Un nemico Andando a causare un critico Non male Non ho ben capito come funziona Il modo in cui Va a mirare su un avversario Però è molto figo Allo stesso tempo Malphite Montagna Warden La sua Suprema Si lancia sui nemici E poi Nino K Tutto qua Molto basilare Molto carino Perché è casuale E quindi Tendenzialmente Va a beccare Il numero più grosso Di nemici Se ti va male Potrebbe No K Appare soltanto una persona Potrebbe essere Utile Metterlo Sul nemico Più lontano Però sarebbe Troppo gestibile Quindi mettono Casuale Lo capisco Perché Olaf Berserker Glaciale Per il resto Il combattimento Olaf Fottiene un'enorme Quantità di attack speed E di life steal E diventa immune I controlli pesanti È la sua Suprema Basilare Gli permette di stare Tanto a lungo In un fight E questo è quanto Twitch Veleno ranger Twitch ottiene Range infinito E i suoi autoattacchi Sono full metal jacket Penetrano gli avversari E passano attraverso Tutti i bersagli Fino alla fire Della board Basta Applicando anche il veleno Ovviamente Molto figo Come effetto Se hai l'effetto veleno Per il resto Ok Dico Sì Fai del danno in più Ad area Se non sono tutti in linea Però è totalmente inutile Mettiamola così Yorick Luce Evocatore Semplicemente Yorick Benedice Alcuni dei suoi alleati In bassa salute E li riporta in vita Come minion di luce Quando muoiono Una volta Che Sale di livello Quindi sale da una A due stelle Da due stelle A tre stelle Ai più bersagli Sulla quale fare Questo effetto E' carino Non è male Costo 5 Arriviamo ai leggendari Che poi hanno un leggendario Sestante Con lux Mastery Shadow Mistico Blade Master Va in meditazione Diventa Intargettabile E si cura pesantemente Nei successivi Nei successivi secondi Dopo la canalizzazione Da gli alleati Gli alleati Danno magico bonus Su ogni singolo autoattacco Molto carino Mi aspettavo un effetto diverso Da parte di Nami Tipo la bolla Le cure Cose leggere Invece sono andati per questo Ed è Buono Ma devi posizionare molto bene Nami per potenziare i tuoi alleati Secondo me E quindi sarà difficile Giocarla a modo Singed Veleno Alchimista Singed corre Per la landa E piazza veleno Dietro di sé E danneggia i nemici E li abbelena E quindi Costa di più In mano l'abilità Se devi usarla Ok E singed Che cazzo ci aspettavamo Taric Cristallo Warden Dopo un breve delay Taric E tutti gli alleati Vicini diventano invulnerabili Per alcuni secondi Ragazzi La grandezza della Suprema Dipende dal suo numero di stelle È così sbroccato A due stelle Non ha Praticamente Tutta la borda è immune Praticamente Tutta la borda è immune Ai danni È così forte Non ha un cazzo di senso Vi giuro È imbarazzante Taric Taric Sarà così frustrante Da gestire Soprattutto perché È un campione di cristallo Quindi devi per forza Avere DPS Per ucciderlo Zed invece È molto carino Elettrico Sammoner Assassino L'abilità di Zed è fichissima Zed crea un clone identico Di se stesso Dietro al bersaglio attuale E copia gli oggetti Anche sul clone E il clone Può usare l'abilità Quindi puoi avere Una board Piena di Zed Cloni È fighissimo È Veramente Una figata È Veramente Una figata È geniale Questa di Zed Quando l'ho vista Ero tipo Brava Ryle Questa è proprio Una bella idea Che sarà sbilanciata A schifo Ma è proprio Una bella idea E poi abbiamo Lux Che può essere letteralmente Ogni singolo elemento Non sto scherzando Ogni singolo elemento Lux Ci sono dieci copie In tutto il gioco Una Per ogni singolo Di questi elementi Una volta che tu compri Lux Tutte le altre Lux Diventeranno di quell'elemento Quando le vedi nel tuo shop Ha l'effetto avatar E la sua suprema è questa Spara un laser gigante Che fa danno enorme È praticamente Aurelion Sol 2.0 E rigenera mana Dipendentemente dal numero Di nemici uccisi Non colpiti Uccisi L'hanno già modificato Su BB E fidatevi di me È veramente insane Ma veramente Veramente insane Com'è insane La durata di questo video Perché sono 44 minuti di video E sono sicuro Che nessuno se li guarderà E se qualcuno se li guarda Dovete scrivere Se squipedale Nei commenti Perché vuol dire Che l'avete guardato Fino in fondo E se lo scrivete nei commenti So che posso rispettarvi Perché vuol dire Che A Vi piace veramente Come ho fatto il video Che l'ho fatto di merda Secondo me E B B Non so perché l'ho fatto di merda Sono convinto Che potrei farlo meglio Ma non so come farlo meglio Quindi sono qua A parlare a go go Di questo Tutti questi contenuti TFT E pensavo che il modo migliore Fosse parlarne totalmente Ora sono arrivato alla fine del video E sono qua tipo Perché l'ho fatto così Non so neanche io Ma penso che sia il modo migliore Nonostante tutto Per ora Magari me ne verrà in mente Uno migliore E poi ovviamente Abbiamo gli oggetti Che sono praticamente Gli stessi Tranne alcuni Dalla spatola Ma quello non è La cosa che ci interessa Ma sono gli elementi In gioco Che ve lo faccio vedere Direttamente così Che è più facile Gli elementi in gioco Ci sono queste caselle Che appaiono Durante la partita Se tu metti i campioni In quella casella Ottieni dei bonus Se ad esempio Li metti nella casella infernale I campioni iniziano Il combattimento Col 30% Di attack speed in più Che rimane solo Per quel turno Con invece la casella Della nuvola Hai il 30% di chance Di doggiare Gli autoattacchi nemici Col invece La casella dell'oceano Il campioni inizia Il combattimento Con 30 di mana in più Con invece La casella della montagna Ogni volta Che un campione Rimane lì Ottiene 30 di vita E rimane permanentemente Questo bonus Quindi puoi mettere Un campione lì Che ha bisogno Magari di tanti HP Ma ha tanta armatura Già di base Tipo un warden È carino Non è così Non è così forte Come gli altri effetti Secondo me Perché gli altri effetti Li percepisci subito Questo è proprio un È un investimento Dalle game Devi sopravvivere Fino a quel punto Quindi Yikes Yikes per davvero Signore e signori Io vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti